In occasione della giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, il 4 novembre, l'Assemblea Legislativa ha partecipato con il Presidente del Consiglio regionale, Mauro Laus, alla cerimonia dell'Alza Bandiere in Piazza Castello, a Torino. L'evento è stato particolarmente solenne, in quanto ricorre il centesimo anniversario dell'entrata dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale.